Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amén. 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 magi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse alzati prendi con te il bambino e sua madre fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo. Egli si alzò nella notte prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto dove rimase fino alla morte di Erode. Giuseppe, sposo di Maria, Giuseppe, uomo giusto, Giuseppe, padre della casa di Nazareth, Giuseppe, educatore paterno di Gesù, Giuseppe, testimone virtuoso, Giuseppe, lavoratore onesto e rispettato, Giuseppe, falegname di Nazareth, Giuseppe, esempio agli artigiani, Giuseppe, guida della santa famiglia, Giuseppe, custode della purezza di Maria, Giuseppe, rispettoso e fedele, Giuseppe, obbediente alla vita, Giuseppe, prudente e sognatore, Giuseppe, paziente e umile, Giuseppe, silenzioso e pratico, Giuseppe, fedele fino alla morte, San Giuseppe, patrono dei moribondi, prega per noi, San Giuseppe, patrono degli operai, prega per noi, San Giuseppe, patrono di tutti lavoratori, prega per noi, San Giuseppe, patrono dei papà, prega per noi, San Giuseppe, patrono delle donne incinta, prega per noi, San Giuseppe, terrore dei demoni, prega per noi, San Giuseppe, protettore della chiesa, prega per noi, San Giuseppe, custode di noi bambini, custode di noi bambine, prega per noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ricordando la profonda umiltà di San Giuseppe e la sua capacità decisionale nelle grandi scelte per la sua famiglia, preghiamo per tutti i papà, perché siano suoi imitatori nel reggere e guidare quella cellula della società che ha così bisogno di essere custodita. Un uomo che è dolce non può essere di più, perché ha tenuto in braccio Gesù. Un uomo più puro non non esisterà, perché ha curato e protetto la Sacra Famiglia. Sei lassù con Gesù e dimori proprio sopra le nuvole, ma qua giù dove tu hai vissuto fare gli ammi stancabili. Protettore, sei un uomo che tu sei, non ci abbandonerai. Ieri, oggi e domani intercedi per noi. Sei raggio del cielo, sei uomo come noi. Tu copri col manto coloro che poi ti chiedono grazie, speranza tu darai. Per ogni uomo che vive c'è l'eternità. Sei lassù con Gesù e dimori proprio giù sopra le nuvole. Ma qua giù dove tu hai vissuto fare gli ammi stancabili. Protettore, tu sei. Non ci abbandonerai. Ieri, oggi e domani intercedi per noi. Protettore, tu sei. non ci abbandonerai. Ieri, oggi e domani. Ieri, oggi e domani. Ieri, oggi e domani. E per l'eternità. San Giuseppe prega per noi. 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 Grazie.